ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video e oggi guardate che mi è arrivato da sbabam un paccone pieno di cose sono tre nuovi prodotti che andremo a vedere farò due video in proposito e divideremo insomma e nei vari video alcuni questi prodotti così ho tempo maggiore diciamo per recensirli bene abbiamo questa serie dei freezes no praticamente se ho capito bene si può creare anche la neve grazie a questi questi kit poi ci sono alcune di queste sfere delle principesse disney tipo sfere di neve e infine abbiamo questi nuovi kitties che sono appunto dei peluche della nuova serie ne sono già uscite un paio di serie e questi sono quelli nuovi quindi andiamo a prenderne alcuni ne peschiamo dalla scatola e li apriamo allora ovviamente arrivano sempre insieme ai loro deblian come questo ve lo faccio vedere velocemente va beh parlerà un po dell'inverno e ci sono alcuni giochini come al solito vediamo i prezzi e vediamo come sono fatti allora eccoli qua il prezzo di questi peluscini è di 3 euro e 99 se la qualità è come quella della serie precedente erano molto carini quindi assolutamente approvati vediamo un po allora i kitties friends della doki doki questo si chiama mitch e la scatolina è comunque molto carina non dovete per forza romperla per tirarlo fuori ovviamente si vede da fuori chi è e quindi lo potete scegliere qua si gratta e ci dice il suo cibo preferito quindi dopo lo andiamo a fare qua c'è la sua scheda e c'è anche il certificato di adozione in cui potete scriverci allora ecco qua tutta la checklist abbiamo tutti questi molto molto carini alcuni come vedete hanno anche le orecchie da coniglio questi due e niente andiamo a vedere il nostro allora eccolo qua si la qualità è quella degli altri il naso a volte arriva un po girato quindi dovete rimetterlo a posto eccolo qua e niente gli occhi sono fatti come quelli della scorsa serie glitterati questo qua ce li ha celesti e le orecchie pure sono olografiche sempre morbide molto carino molto morbido assolutamente nulla da dire simile alla serie precedente quindi approvato questo appunto va raschiato un pochino e vi dirà il suo cibo preferito che a quanto vedo qua il burro da rachidi poi lo gratterò meglio ma è il burro da rachidi e lo potete attaccare qua sulla scheda il secondo che andiamo ad aprire si chiama spike eccolo qua ed è sul celeste bianco vediamo un po a celeste bianco e blu carino allora eccolo qui spike un po anche qua c'è il suo certificato e lui è questo qui è molto carino devo dire i colori mi piacciono moltissimo che qua il naso un pochino girato eccolo e anche in tinta con le mie unghie e questo agli occhi argentati orecchie sempre glitterate e ha sfumato dal celeste chiaro al blu scuro e dietro hanno tutti la loro etichetta molto carini anche questo approvato mi piace molto non ha non ha difetti particolari quindi anche questo ve lo consiglio sono veramente morbidi e lo assicuro il pelo è morbidissimo quindi molto molto belli quindi questi super approvati anche il prezzo mi sembra ottimo adesso apriamo invece le sfere delle principesse disney e tra l'altro vedo qua che la prima che andiamo ad aprire è proprio quella che volevo trovare di più sono delle sfere che come vedete qua rimbalzano ma c'è anche un bracciale su cui poterle poggiare e farle diventare le sfere di neve volevo appunto pocahontas in particolare perché di pocahontas ho pochissime cose di solito mettono sempre le altre principesse e pocahontas viene un po snobbata un po come mulan che infatti non c'è comunque ci sono appunto tutte queste c'è biancaneve rapunzel ariel pocahontas jasmine aurora bell e cenerentola tutte molto carine la prossima volta ne apriremo altre due e intanto andiamo a vedere come sono e qual è il prezzo il prezzo di questo è di 7 euro e 99 quindi un pochino alto vediamo un po se ne vale la pena come sono fatte allora eccole qua sotto c'è il braccialetto che può sicuramente andare bene a una bambina ma è molto piccolo quindi fa sicuramente da base c'è scritto appunto pocahontas con un po di decorazioni in plastica semplice eccolo qua e questa è la ball di pocahontas sotto a una basetta credo in metallo così la fa stare in piedi e dentro ci sono tutti i glitter e dice appunto che rimbalza ora tremerà tutto immagino rimbalza quindi appunto a posto vediamo un po come è fatta allora qua c'è il simbolo spavano quindi giriamola allora vediamo un po la faccia mi sembra un pochino poco definita però allora gli occhi sono dipinti bene però la faccia non mi fa impazzire molto vedete forse i capelli attaccati un po troppo dietro il vestito non ha una grandissima caratterizzazione o pittura è carina ecco però magari non è proprio da collezionista comunque carina mi piace l'idea del bracciale e della sfera di neve e appunto potete appoggiarla così in teoria credo che bastare così non so bene come metterla perché qua c'è il simbolo sbabbà me la copre di qua c'è questo e qui c'è la riga che non la farebbe vedere benissimo io la metterei tipo così una cosa del genere così più o meno però vabbè ripeto magari non è proprio da collezionisti questa più per bambini comunque carina magari l'avrei messa leggerissimamente meno come prezzo ma essendo disney capisco che comunque sia debbano pagarci i diritti e tutto quanto quindi come prezzo forse ci può anche stare comunque carina vediamo anche quest'altra che invece di biancaneve hanno più fatto vedere il deplian vediamo se ci dice qualcosa ok si ci parla di pocahontas c'è un suo artwork molto bello e qua c'è la checklist con le altre eccolo qua ma ok ci dice che questo può essere usato anche come sfondo carino ok vediamo adesso biancaneve allora eccola qua vediamo se l'hai fatta un po meglio rispetto a pocahontas allora ecco il suo castello e ecco la sua descrizione vediamo allora questo è il bracciale innanzitutto uguale all'altro ma qua ha un simbolo diverso credo no forse uguale uguale sì ok quindi stesso simbolo allora biancaneve mi sembra fatta un pochino meglio rispetto a pocahontas mi sembra attaccati meglio i capelli anche il viso e il vestito è un pochino più caratterizzato vedete a due colorazioni rossa e blu le maniche a sbuffo sembrano fatte anche abbastanza bene quindi penso sia fatta un pochino meglio rispetto a pocahontas ditemi che ne pensate comunque eccola qua lea glitter di altri colori questi sono più sul verde questi più invece sul rosso molto carina comunque mi piace mettiamola così l'idea è molto bella devo dire quindi super approvata mi piacciono e la prossima puntata vedremo le altre due che mi sono capitate e adesso vediamo queste ultime due cose di oggi e le altre le apriamo la prossima volta allora questi appunto sono i frisi snow ci sono diversi animaletti dentro il prezzo è sempre 3 euro e 99 e sono a forma di igloo l'altra volta era fatto in plastica molto più leggera questa in plastica dura quindi potete usarlo anche meglio per giocare eccetera insomma più resistente adesso lo vado ad aprire e vediamo chi c'è allora eccolo qua davanti c'è la porta con scritto frisi e credo vada sì aperto così carino allora c'è l'aschi credo sia è adorabile sono fatti molto bene sono in plastica dura e poi che cos'è un pare orecchi e un nastrino e qua dentro credo ci sia la cosa per fare la neve allora vediamo un po allora si chiama marty questa è la sua descrizione al lupo ok e qua c'è la checklist abbiamo il gufo il gatto la renna credo sia il gatto delle nevi coniglio foca è carino la foca la volpe pinguino loghi non so se è un cane normale non lo so scogliattolo orso e appunto il lupo e qua ci dice come fare la neve e ora lo leggo e poi la proviamo andare a fare ok si molto semplice mettiamo la polverina qui dentro e poi ci mettiamo un bicchiere d'acqua alla fine andremo a provare a farlo intanto apriamo quest'altro e vediamo chi trovo allora eccolo qua vediamo il il gufo carino anche questo ha un pare orecchi e un fiocco stessa polvere vediamo chi è allora si chiama tobia questa appunto è la sua descrizione e qua come al solito veli segna lui e allora mettiamo gli parole che poi andiamo a provare a fare la neve allora eccoli qua vestiti con le cuffie e le sciarpe sono veramente adorabili piacciono un sacco e quindi ora andiamo a provare a fare la neve dunque in teoria appunto dobbiamo tagliare la bustina e versare la polvere all'interno dell'iglue parecchio densa un po ok io non ho mai provato a fare la neve quindi sarà divertente e penso emozionante allora c'è questa polverina non la vedrete mai immagino è tipo zucchero e andiamo a prendere un po d'acqua allora eccola qua prendo il solito bicchiere d'acqua e versiamo e vediamo come si crea la neve allora aspetto un attimo vediamo se forse ne ho messa un pochino troppa no ma no che carina sembra veramente neve c'è più ghiaccio tipo però più ne metto e più diventa gigante ok allora aspetto un attimo vedo se si indurisce in qualche modo sembra tipo gommosa oh mio dio è stranissima sembra neve sì però sembra anche più gommosa ovviamente rispetto alla neve tipo gelatina per capirci penso sia tipo gelatina oh mio dio è stranissima dopo devo andare a ripulire la scrivania però è veramente veramente strana mi piace veramente simpatica come idea e ci possiamo mettere in mezzo il nostro pupazzetto come se stesse nella neve o mio dio è adorabile carina veramente carina geniale quindi per questo video recensione è tutto fatemi sapere nei commenti nel post della community che cosa ne pensate spero che questo video vi sia stato utile se vi è stato utile lasciatemi un pollice in su mi sono piaciute tutte le cose quindi sicuramente ve le consiglio e niente ringrazio sbabam per averme le inviate per farvi la recensione e noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando non perdetevi i prossimi video e la prossima puntata perché finirò di aprire tutte le cose della box vi mando un grosso bacione un salutone ci vediamo al prossimo video e a presto ciao ciao